181. La sinistra afferma che la crocifissione di Gesù Cristo era un abuso da parte di Gesù Cristo che era un, freddo, fascista, maco e un vacil, oltre che capitalista e franchista. Il Lunga M. Mora, 1968. Autore spagnolo. 182. L'altra democrazia, di cui ho l'onore di parlare male, è la politica, che tende a dominare le masse, e che è un assolutismo dei numeri, in quanto il socialismo è un assolutismo dello stomaco. Picon con accento acuto o barroia, 1872-1956. Scrittore spagnolo. 183. Appendiamo i ladri e quelli grandi che indichiamo agli uffici pubblici. Esopo, 564 H. Favolista ellenico. 184. Ogni uomo deve essere rispettato come fine assoluto in se stesso, usarlo come mezzo semplice al servizio di uno scopo esterno e un crimine contro la dignità che gli è stata data e che gli appartiene. Immanuel Kant, 1724-1804. Filosofo prussiano. 185. La massa provoca l'individuo che si distingue, dall'invidia, dallo straniero, nella conquista o nella difesa, dalla stupidità o dalla sopravvivenza genetica. Questo attacco costringe la sublimazione ad aumentare l'invidia in un circolo vizioso che finisce con l'esaurimento. la morte o l'imposizione vittoriosa sulla massa oppressiva. Il Lunga M. Mora, 1968. Autore spagnolo. 186. Il moderno Stato democratico non è altro che un totalitarismo e la democrazia il nome del partito con cui manipola questo Stato totalitario. Vicon con accento acuto dottore R. Azuage, 2018. Blogger venezuelano. 187. Gran parte dell'antipatia collettiva per l'individuo deriva dalla paura. Soprattutto nei nostri paesi del sud. Gli individui forti sono stati irrequieti e tumultuosi, le mandre sopra, come quelle sottostanti, non vogliono che i semi dei Cesari o dei Bonaparte fioriscano nelle nostre terre. Quelle mandrie bramano il livellamento spirituale, che non c'è più differenza tra un uomo e un altro rispetto a un bottone colorato sul risvolto o un titolo sulla carta. Questa è l'aspirazione di veri tipi sociali, le altre distinzioni, il valore, l'energia, la bontà, per i democratici rotolanti sono vere impertinenze della natura. Picon con accento acuto o Barroia, 1872-1956. Scrittore spagnolo. 188. Attualmente, le richieste delle masse stanno diventando sempre più definite e tendono a distruggere radicalmente la società attuale, per condurla a quel comunismo primitivo che era lo stato normale di tutti i gruppi umani prima dell'alba della civiltà. Gustave Lebon, 1841-1931. Sociologo francese. 189. Non temo il suffraggio universale, la gente voterà come è stato detto. Alexis de Tocqueville, 1805-1859. Giurista francese. 190. Il suffraggio universale è una vergogna dello spirito, uguale o peggiore del diritto divino dei re o dell'infallibilità del papa. Gustave Flaubert, 1821-1880. Scrittore francese.